Ultimo appuntamento prima della pausa estiva perché nei mesi di luglio e agosto vi lasciamo con tanta video musicali, con tanta musica e ovviamente l'informazione regionale che scorrerà come ormai da due mesi a questa parte, siete abituati a vedere, andiamo anche noi un po' in vacanza e insomma facciamo un po' questo connubio musica e notizie e chiudiamo, insomma, prima di andare in pausa con Luca Alborghetti per parlare di giovani. Noi siamo una realtà giovane, cerchiamo di avere una programmazione giovane, quindi chiediamo un po' con chi ha contatto quotidianamente, sta con i giovani. Allora Alborghetti, cominciamo da fare un bilancio che poi facciamo ogni anno su quella che è stata l'attività sia dell'Enepe come ente formativo ma in generale della formazione. Si tratta di anni molto difficili quelli che stiamo vivendo in questo periodo sia per quanto riguarda il mondo esterno e la formazione ma anche per la formazione. Indubbiamente noi abbiamo fatto moltissimi corsi che miravano a riqualificare e l'obiettivo è quello di favorire il reinserimento lavorativo di molti lavoratori. L'obbligo per coloro che facevano la cassa integrazione in mobilità di formazione è cessato in questo momento e quindi anche questa parte di attività è andata a finire. Sicuramente noi ci siamo rivolti a gruppi di utenti giovani che volevano qualificarsi dopo il percorso post diploma oppure che ancora non avevano acquisito un titolo di studio di secondo livello formandoli come meccanici, come elettricisti e come operatori di vari mestieri che è utile in questo momento possedere per potersi riempiegare. Non altro perché così almeno uno si fa i lavori proprio e risparmia un po' di soldi. Senti, sotto le elezioni regionali ma anche dopo, in molti politici, soprattutto dall'area di centro-sinistra devo dire, quindi quelli in teoria sono un po' più vicini, almeno in teoria legati al mondo della formazione, hanno molto attaccato tutti gli enti formativi definendoli inutili e che sostanzialmente si spendono un sacco di soldi e non si è nulla. Cosa rispondete voi enti formativi? Ma non a livello politico, ma proprio a livello umano perché poi, insomma, a parte il corso c'è anche un discorso umano qui. Allora, innanzitutto distinguiamo tra quello che i politici nazionali hanno detto o da quello che hanno detto i politici locali. Nel senso che se più volte a livello nazionale abbiamo visto dei pesanti attacchi alla formazione privata e alla formazione professionale, invece a livello regionale e locale abbiamo trovato una piena condivisione con le persone al governo di questa regione. Sia prima, ma anche quello che sta accadendo ora con la nuova giunta. Io ritengo che la formazione professionale non deve dare occupazione, non è il nostro mestiere. Noi dobbiamo dare competenze affinché le persone trovino con più facilità occupazione rispondendo a quelle che sono le richieste del mercato. Sono analisi che noi facciamo continuamente interrogando gli operatori del nostro settore e quindi tutte le proposte formative partono da precise richieste di imprese o da un orientamento generale del mercato. Quindi nessuna formazione fatta per il semplice piacere di fare la formazione. Senti, voi di corsi ne fate molti appunto di vario genere. Per quello che potete verificare, oggi come oggi una persona che vuole fare un corso per specializzarsi in qualcosa, che settore trova un po' meno difficoltà? Beh, io facevo due chiacchiere con un imprenditore qualche giorno fa di un'impresa che per fortuna non sta passando momenti difficili e anzi è un paradosso perché sta puntando all'assunzione di nuove persone. Io direi che imparare un mestiere in questo momento è la via vincente. Se devo dire in quali aree, direi area sociosanitaria, assistenza alla persona, ma se devo parlare invece di mestiere di tipo più tradizionale, quello che va comunque è chissà lavorare con l'elettricità e l'elettronica, quindi corsi di elettricista o di tecnico elettronico e soprattutto di saldatura. C'è stata un'inversione negli ultimi tempi, noi abbiamo un'officina attrezzata per la saldatura. Fino a poco fa soltanto cittadini stranieri o prevalentemente cittadini stranieri ci chiedevano di fare attività formativa sulla saldatura. Adesso invece abbiamo una grandissima utenza di italiani perché ci si è resi conto che chi sa saldare bene in questo momento trova occupazione. Sì, ma noi di cavi da saldare ne abbiamo sempre tanti, abbiamo il problema di trovare chi ci sa saldare perché tanti sono saldatori, ma di quelli bravi ce ne sono veramente pochi. L'altra cosa c'è anche Radio Trieste che ha chiuso, quindi sono sempre meno i posti, proprio anche fisicamente, perché alle attività conviene più vendere il cavo pronto che poi i cavi industriali, ragazzi miei, durano quello che durano. Senti, parliamo invece di quello che sarà tra un po'. Questa è un'estate che sicuramente passerà per l'estate della non vacanza, passerà l'estate dove il barco sarà pieno 8 giorni su 7, anche quando sarà brutto tempo, probabilmente. Cosa ci aspettiamo? Anche perché ovviamente dipendendo dai corsi della regione comunque un po' tutto è in ritardo proprio per motivi anche di patti di stabilità. Quali sono i corsi che bene o male saranno in programma per la prossima stagione e quali grossomodo potrebbero essere i tempi, almeno per cominciare ad informarsi su quelle che saranno le prossime scadenze di inizio corso? Dunque, sicuramente continueranno perché il finanziamento è già in atto le formazioni per le persone che vogliono operare o che già stanno operando nell'area socioassistenziale, quindi corsi per acquisire la qualifica di OS, operatore socio-sanitario. Stiamo attendendo le graduatorie di alcuni progetti che abbiamo presentato sia finalizzati al post-diploma sia a riqualificare chi ha soltanto la terza media, quindi sia parliamo di formazione nell'area della meccanica che dell'elettronica, sia nell'area della programmazione del software e, una novità, abbiamo presentato un percorso finalizzato ad imparare a operare negli studi che si occupano di consulenza immobiliare e di gestione stabili. Una nuova normativa nazionale fa sì che ci potrebbero essere dei nuovi spazi di lavoro in quel settore. Ecco, senti, parlando poi invece, andando al di là di Trieste, ci sono altri corsi, magari perché non so, magari fossero anche le agrari, altre cose, ci sono altri corsi che magari uno qui a Trieste, alla sede di Elena e di Trieste non trova, magari può trovarli in Friuli? Sicuramente. Quello che io so è che sicuramente i miei colleghi di Udine stanno erogando molti corsi sulle elaborazioni meccaniche dei materiali. Noi sappiamo che l'area dell'Udinese e del Pordenonese, uno per l'area più mobile legno, uno più per l'area meccanica, stanno in qualche modo riprendendo la loro parte economica e quindi l'obiettivo è quello di rafforzare le imprese, fornendo nuove competenze, competenze fresche soprattutto agli operatori. Dai corsi ci spostiamo invece a quelli che sono i rapporti umani, perché in quest'ultima stagione, negli ultimi mesi abbiamo visto un aumento, sono venute alla luce diversi fenomeni di bullismo, comunque situazioni particolari, di fatto sempre fuori della scuola, però comunque all'interno delle strutture, insomma, qualcosina uno può anche intuire. Come sta cambiando la figura dell'insegnante, anche proprio dal punto di vista della psicologia vera e propria, di chi c'è e di chi purtroppo magari vive situazioni in casa non facili, non perché magari la famiglia sia disagiata, ma perché magari il marito perde il lavoro, ci sono situazioni economiche che ovviamente riflettono negativamente. Sì, io non ho visto in questi ultimissimi anni, però ho visto progressivamente negli ultimi dieci anni, un degradarsi dei rapporti familiari e quindi anche un maggior malessere. Noi abbiamo una prima formazione, quindi ragazzi dai 14 ai 18 anni che ottengono una qualifica professionale, quindi abbiamo una visione variegata di problematiche di questo genere. Sicuramente esistono delle tensioni che sono crescenti. direi che uno degli elementi che potrebbe essere pensato come particolarmente complesso, cioè una parte notevole di cittadini stranieri che frequentano i nostri corsi, e quindi possibili visioni diverse della vita o conflittualità di tipo particolare, non si pongono. Io vedo che i cittadini stranieri sono perfettamente assimilabili ai cittadini italiani, per quanto riguarda regole, comportamenti, problematiche familiari. Sono sicuro che in altre realtà si possono verificare situazioni complesse e difficili. Per nostra fortuna all'ENAIP abbiamo una metodologia per gestire questo tipo di problematiche perché i tutor presenti mediano continuamente tra famiglie e gruppo docente. È un'organizzazione un po' diversa da quella della scuola pubblica. Infatti io proprio questo voglio arrivare, che c'è qui uno ha la possibilità, non dico di andare in confessionale, però ci sono delle persone che appunto stanno a metà stare tra chi è un insegnante, quindi una figura cattiva, se così vogliamo, e ragazzo effettivamente, insomma se uno magari ha bisogno di consultarsi qualcosa, magari anche tante volte magari ti vergogni perché non sai come fare, ecco è una figura che mi sembra abbia sempre più importanza. È una figura fondamentale per noi perché l'insegnante ha sostanzialmente due compiti, quello di insegnare ma anche di valutare. Allora diventa difficile riuscire a confidarsi, a far emergere problemi individuali, con chi anche ti va a giudicare. Il tutor è la persona che ha l'obiettivo di non giudicarti, di guidarti, di consigliarti e di supportarti nel tuo percorso formativo. Se ne parla tanto, cosa ne pensate voi del discorso sigarette elettroniche sino a scuola si va, non si va, perché io so che ormai se ne parla anche perché io, se anche vedi anche in ospedale che le fumano, no? Che idea, visto che non c'è ancora una legge che regolamenta voi, come vi state comportando? Io vi dico con grande imbarazzo che ho visto tra i nostri studenti all'aperto, nei luoghi dove è rigorosamente consentito, l'uso esclusivamente di sigarette di tipo tradizionale e quindi non ho ancora dovuto affrontare il problema. Di sicuro per me una sigaretta elettronica deve essere trattata esattamente come una sigaretta tradizionale, quindi in luoghi chiusi, in luoghi dove non è consentito fumare la sigaretta tradizionale, nemmeno la sigaretta elettronica può essere consentita. Niente, augurandovi ancora una volta buonestate e dandovi appuntamento a lunedì 26 agosto se non sbaglio, Luca ci vedremo comunque per vedere un po' quello che accade a settembre, buonestate, vi lasciamo ovviamente con i programmi estivi, con i video musicali, con le tante località che Roberto Novri vi farà scoprire in quest'estate, grazie e buon prossimamente l'estate a tutte.